Il consigliere regionale di Forza Italia Domenico Damascelli ha intervenuto sulla vicenda delle frodi sull'olio extravergine di oliva. In una nota l'esponente forzista ha dichiarato Sono scandalose le frodi di olio extravergine d'oliva scoperte dall'attività della magistratura e delle forze dell'ordine. Ora la regione Puglia, prima in Italia per produzione di olio extravergine, segue attentamente l'evolversi delle indagini e si costituisca parte civile nell'eventuale processo perché frodi di questo genere costituiscono un danno ingentissimo all'economia pugliesi. Damascelli aggiunge A causa di tali frodi il mercato dell'olio viene falsato consentendo alle multinazionali disoneste che spacciano per extravergine un olio che non lo è una vendita a prezzi più bassi. Ciò comporta un ribasso drastico delle quotazioni di mercato, un danno per le imprese che hanno produzioni di alta qualità e che molto spesso in situazioni così distorte non riescono neppure a coprire i costi di produzione. L'esponente forzista in consiglio regionale ha fatto una proposta accolta anche dall'assessore all'agricoltura a cui sarebbe opportuno a suo dire dare immediato seguito, istituire cioè un tavolo di filiera che metta insieme i produttori agricoli locali, i commercianti onesti e i rappresentanti della grande distribuzione organizzata per dare il giusto valore al pregiatissimo olio extravergine di oliva pugliese. Pertanto Damascelli chiede all'Aggiunta di recepire la proposta al più presto, augurandosi che l'azione di repressione delle forze dell'ordine prosegua con la stessa efficacia per far scomparire dal mercato aziende che operano in frode e in danno degli onesti agricoltori.